4 persone sono morte a Takaradi in Ghana nella regione occidentale dopo essere state coinvolte in un incidente tra due autobus. Il sinistro sarebbe avvenuto nelle prime ore di domenica 1 gennaio 2023. Secondo quanto si apprende l'impatto è avvenuto frontalmente tra i due mezzi all'arrivo dei soccorsi purtroppo per 4 persone non c'era più nulla da fare. Si registrano inoltre diversi feriti.